Estra, sempre più vicino a Piazza Affari, la multiutility energetica ha infatti presentato la domanda di ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul listino telematico azionario di Borsa Italiana. Ammontano a 18,8 milioni di euro gli utili realizzati da Estra nel 2017 in crescita del 6,3%. La compagnia energetica ha chiuso il bilancio consolidato del 2017 con un fatturato superiore al miliardo di euro. Estra Energie vince le gare Consip per fornire gas a 12 regioni italiane. Estra, con 340 milioni di metri cubi, diventa così il primo operatore nazionale Consip per valori di fornitura. Il premio giornalistico Estra per lo sport istituisce per praticanti e allievi delle scuole di giornalismo il riconoscimento Daniele Redaelli in memoria dello storico capo redattore della Gazzetta dello sport.